Il Consorzio Venezia Nuova non potrà redistribuire gli utili tra le imprese fino alla conclusione di tutti i processi sul Mose. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con sette sentenze che confermano il provvedimento emesso dal Prefetto di Roma su richiesta dell'ANAC. Tutti gli utili della gestione commissariale dovranno essere accantonati per conservare i proventi dell'eventuale corruzione in attesa delle sentenze definitive. Non si vede come sia possibile distinguere tra utili spettanti al Consorzio e utili di competenza delle imprese consorziate, spiegano i giudici del Consiglio di Stato. Quelle risorse vanno accantonate per scongiurare il paradossale effetto di far percepire proprio attraverso il commissariamento che gestisce l'esecuzione del contratto il profitto dell'attività criminosa.